...prima, allora, i GDV, since 98, sapete cosa vuol dire? ...sin dal 98, hanno sempre fatto quel cazzo che volevano fare i gemelli di... ...la cazzo di... ...la cazzo di... ...la cazzo di... ...no, quel cavolo che è facendo... ...sio, è che facendo così, però nel tempo, hanno sempre detto e questi gemelli diversi sono troppo commerciali ...el tuo Metamarra, eh? ...el tuo Metamarra, i gemelli sono da Tamarri, eh? ...la radio non li passa perché fanno troppo il rap ...e ragazzi, però i gemelli sono troppo rap ma non sono i pop ...e no, 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 no ...i gemelli fanno i pezzi troppo veloci ...e no, ma fanno i pezzi troppo lenti, questi gemelli diversi ...che palle, cazzo ...che cazzo ...a noi, vengo qui perché così mi vedo meglio ce ne hanno dette di tutti i colori ma che a loro piaccia o non piaccia e dico loro perché sicuramente sono fuori da questo posto perché questa sera c'è solamente gente che ama i GDV e a tutti quelli che non sono qui questa sera noi diciamo che anche se a loro non piace noi siamo una band da 15 fottuti andiamo dal cenigrello questa sera la gente che vediamo qua abbiamo visto gente che segue i GDV dal 98, dal 2000, dal 2002, dal 2004, dal 2006 e siamo al 2013 quindi ringraziamo ognuno che ha tirato fuori i 17 euro per pagare il biglietto dei GDV e di questi campi male doppio raga vale doppio, grazie anche perché io i gemelli sono su sto palco come ha detto il tuo grido da 15 anni solo ed esclusivamente grazie alla loro musica e quindi visto che siamo da molti e cosa diciamo mi dicono se non fate di cominciare in giro la sera noi facciamo fino in fondo non è che molto bene le mani da un'altra storia mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro mi dicono se non fate di cominciare in giro L'unità non può sbagliare, le scorrete con i piedi a te, un bambino a fuori, non lo vuoi per fare, ma sbagliate per te. Ci metto un attimo, il mio spiro è che si può sbagliare in muscolo, mi ha tenuto troppo, vedete che avanza la stanza è in basso, ogni anno si alza, il cambio di fianza è il suo lavoro, e non è un'attività, è un'attività, è un'attività, come immagina, c'è un'attività, mi sono svelito, non lo vuoi per fare, ma insieme, non lo vuoi per fare, la stanza è in��ervità,úsica non è un attimo, il mio spiro è un attimo, tutte le scorrete con i piedi, abbiamo ingлось colite, ocupanti più ci metto, la stanza è un'attività, Covid parte parte,outer le linzando, fino al uniqu 128, il mio spiro è entr Humani, Cersia! No sbagliate per me, posso entrare suổste se уguardo cè un'attività, la stanza è un'attività, con lo scottμο da classe è lì, la scoff della minata il racone, Musica, come è musica, come è musica Come è musica, come è musica, come è musica Come è musica, come è musica Grazie a tutti